Eccoci con uno dei bombe della giornata, ennesimo gol, ma era più difficile il primo che hai sbagliato o quello che hai fatto? No, il primo era abbastanza difficile, poi è stata un'azione veloce e me la sono trovata lì per lì nel fango, ho tirato come capitava e l'ho tirata fuori di poco. Il secondo era quando ho fatto gol, era un altro episodio, ho tirato al volo, la quale non ho toccato in terra e mi sono trovato un pochino meglio. Poi un altro, il palo, giusto? Ho preso un palo, sì, ma lì ho avuto sfortuna perché ha toccato anche il portiere, stavo bravo il portiere, deve essere un pochino sul palo, stavo abbastanza bravo anche lui. Che ne pensi della partita di oggi nel tuo commento? Sì, il primo tempo molto bene, il secondo tempo ci siamo un po' abbassati, siamo un po' entrati un po' sotto gamba, però è stata tuttosommata una bella partita, di sofferenza ma con tre punti portati a casa fa sempre comodo. Insomma, con il trio lì davanti, vi sentite a meraviglia, vi trovate a meraviglia? Ora piano piano, passando anche più partite, più giochiamo insieme, più ci troviamo e più ci divertiamo, passandoci la palla e giocando bene, ci divertiamo e siamo abbastanza bravi. Ti ringrazio. Grazie a voi.